Si gioca la prima di ritorno, Giulia Nova agli straordinari dopo il recupero di mercoledì e Vasto Marina, va detto molto incerottato alla ricerca dei punti perduti che servono alla graduatoria. Con le riprese di Mario Giacchetta andiamo a vedere il film della Contesa, si parte al quarto un traversone di Lenoci sulla testa di Traini, Marco Nato replica con riflesso, assolutamente straordinario. Non si trova spazio tra le linee per il Giulia Nova, allora si prova con lo scavalco, al diciassettesimo pallone lunghissimo di sciarretta per Francesco Di Paolo che converge e tiro di destra, assolutamente imparabile, pure per l'esperto Marco Nato, una vera e propria perla per l'ex Avezzano che sblocca il risultato. Il bacigalupo Vasto Marino non si deprime affatto ed attua il solito pricing generoso che al ventunesimo mette in difficoltà la formazione di casa. Errore Rinaldi che nel verticalizzare colpisce De Vizia, pallone sul letto sul quale Bocca Nera va a chiudere non con poco affanno ma assolutamente decisivo. Al minuto 27, ancora un lancio dalle retrovie stavolta su Persiani che di testa sombrera Iarocci in area che lo contrae a terra per Battistini, penalti per Buonavoglia. L'ennesima perla di frettezza, palla a destra, Marco Nato a sinistra, 2-0. Nulla di più fino al Teccaldo e così si passa alla ripresa, al tredicesimo angolo ben piazzato di Giglio. Persiani di testa, il riflesso di Marco Nato alla palla che balla tra terra ed aria sulla linea che poi finisce in out di fondo. A metà ripresa il vasto Marina riapre la gara, c'è un calcio d'angolo, sbaraglia una maglia giallorossa, Baromano raccoglie e calcia un desto di rara precisione e bellezza che lascia imbalsamati tutti i giocatori, portiere compreso e quindi 2-1. Intanto cambi, il Bacicalupo ci crede, il Giulianova non può farsi sorprendere al trentacinquesimo ripartenza dei locali sisse per Persiani che sotto misura manca una possibilità che possiamo definire assolutamente ghiotta. E poi da quella che poteva essere una situazione di pericolo viene fuori che il Giulianova trae il bassimo profitto. Buonavoglia fa ripartire sisse che si mette in proprio Omar, manda il Barfitti e poi riesce a buttare in rete il 3-1 che ristabilisce la doppia distanza per i giallorossi che chiudono di fatto la gara. Mister, c'è stato da soffrire fino al quarantesimo per avere ragione di questa squadra del Vasso Marina che vi ha dato filo da torcere in pratica fino a quando l'arbitro non ha fischiato il triplice fischio? La partita l'abbiamo iniziata bene e loro sinceramente non hanno creato mai grossi pericoli. Però come ho detto io al fine del primo tempo ai ragazzi 2-0 è un risultato molto difficile da gestire perché pensi che magari mentalmente sei tranquillo invece poi basta una disattenzione per ripire la partita. Abbiamo dimostrato una grossa prova di maturità sul 2-1, non ci siamo disuniti e poi per fortuna è avuto il 3-1 della tranquillità però ancora una volta questi campionati dimostrano che non ci sono squadre deboli quindi vanno affrontate sempre con la giusta maniera e determinazione. Adesso prima della sosta ci sarà la partita di mercoledì, anche quella è una gara insidiosa? Adesso pensiamo a questa qui e ci godiamo questa vittoria, poi vediamo di affrontare la partita successiva con la Flacco con la stessa determinazione che abbiamo affrontato. È una delle squadre che ci ha messo in grosse difficoltà quindi dobbiamo prepararla bene per chiudere l'anno. Allora mister, una gara che comunque dopo il 2-0 avete riaperto e non avete mollato mai. Esatto sì, sono contento che l'hai notato, naturalmente sul 2-1 ti dico la verità, ci speravo dai. Era legittimo no? Sì ma poi prendere i gol su, magari decidi di non battere il calcio di punizione diretto, lo dai esterno, magari c'è un'incomprensione e fallo laterale, non riesci ad essere furba, non fa ripartire la squadra avversaria, ci pigli i gol. Il paradosso è proprio che colui che l'aveva riaperta, ha perso palla, ha fatto ripartire. Sono ragazzini, ci sta, ci mancherebbe, devono avere la possibilità di sbagliare, di crescere e di fare le proprie esperienze quindi al momento sono veramente dispiaciuto, faccio i complimenti sia alla mia di squadra ma soprattutto anche al Giulianova, faccio gli auguri di Natale a tutti gli sportivi e niente, che dire, speriamo che ce la mandi buon anno prossimo. Sicuramente, in bocca al lupo mister, buon lavoro. In bocca al lupo, grazie.